Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi io e Daniele prepareremo un dolce del quale ci siamo innamorati nel nostro ultimo viaggio in America, il Lemon Love. Per questo dolce ci serviranno 320 grammi di zucchero, 350 grammi di farina doppio zero, 3 uova, la scorza di 2 limoni grattugiata, 200 grammi di burro a temperatura ambiente, 250 ml di latte intero, una bustina di lievito vanigliato, un cucchiaino di sale, mentre per la glassa serviranno 250 grammi di zucchero a velo, 25 ml di latte, 80 grammi di burro, 2 cucchiaini di scorza di limone. Bene, diciamo che possiamo cominciare. Per prima cosa dobbiamo accendere il forno e portarlo a 170 gradi, cosa che noi abbiamo già fatto. Come possiamo dedicarci all'impasto? Nella planetaria andiamo a mettere lo zucchero, il limone, la scorza e le nostre uova. e adesso lo impostiamo fino a ottenere un composto omogeneo. Nel frattempo mischiamo insieme la farina, il mievito e il sale. Adesso aggiungiamo al nostro impasto la farina, poco per volta, continuando a mischiarla mano a mano. Adesso che abbiamo un impasto omogeneo possiamo aggiungere anche gli ultimi due ingredienti che sono il burro a temperatura ambiente e il latte. rimbastiamo fino a che il composto non sarà omogeneo ancora una volta. Ok, a questo punto possiamo mettere il composto in uno stampo come questo da Blue Cake che abbiamo imborrato e infarinato e poi lo possiamo mettere in forno. Lo mettiamo in forno per un'ora e un quarto a 170 gradi. Adesso aspettiamo che la torta si cuocia e dopo prepareremo la glassa per decorarla e ricoprirla. Siamo pronti a tirare fuori il nostro lemon loaf da farina. Mentre il lemon loaf si raffredda noi prepareremo la glassa, quindi nello sbattitore metteremo lo zucchero a velo, le scorze di limone, il burro e il latte e monteremo tutto insieme. E la glassa è pronta. Adesso dobbiamo togliere dalla nostra teglia la torta e la ricopriamo con la glassa. Ed ecco qui il nostro lemon loaf finito. È il nostro primo tentativo, non sarà forse bellissimo ma sarà sicuramente buono. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così è, come al solito, non dimenticatevi di condividerlo con tutti i vostri amici anche se il risultato è un po' così così. Noi nel frattempo vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti e ben ritrovati. Mentre per la glassa, per prima cosa accendiamo il forno, cosa che noi abbiamo già fatto, e lo prontiamo a 170 gradi. Nel frattempo prepariamo l'impasto. Nella planetaria... Adesso aggiungiamo al nostro impasto la farina. in... Si è tagliato qua praticamente. Il palo cadera. Pesa 100 kg. Il palo cadera. Lemon loaf, nut to nuts. Lemon nut to nuts. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial unghie. Oggi vi mostrerò come realizzare questa manicure a blocchi di colore con un piccolo strass applicato. Ecco quello che ci servirà per crearla. adesso andiamo bene.